Musica Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura del nostro telegiornale torniamo ad occuparci della storia del piccolo Luigi. Proprio perché oggi il primario del reparto di terapia intensiva e neonatale del Policlinico di Bari, Nicola Laforge, è stato nominato dal Tribunale per i minorenni tutore legale del piccolo Luigi. Il bimbo di dieci giorni è lasciato in una culla termica di una parrocchia di Bari. Adesso i giudici dovranno decidere se far restare il bambino in ospedale con le cure di medici e infermieri, anche se le sue condizioni fisiche sono ottime, oppure se indirizzarlo ad una struttura esterna in attesa dell'affido. Intanto il reparto stanno arrivando decine di telefonate da tutta Italia, di persone che chiedono informazioni su come procedere per chiedere l'affido del piccolo e la successiva adozione. Oggi siamo andati nel reparto di neonatologia a conoscere il piccolo. Vediamo. Il piccolo sta benissimo, è coccolato da tutti, ha passato tutta la notte a mangiare perché tutti volevano farlo mangiare, perché ovviamente il mangiare è segno di salute e lui l'ha dimostrata tutta. Sta bene Luigi, mangia tanto, dorme ed è tranquillo con il suo ciuccio in bocca. A neonatologia è coccolato da tutti, da ieri pesa 2,6 kg e oggi per lui è stata un'altra giornata di accertamenti e di saluti, quelli del sindaco Antonio De Caro e anche dei carabinieri che fanno chiarezza sulla vicenda. Per fortuna Luigi è in salute, sul bigliettino lasciato dai suoi genitori naturali, nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista c'è scritta la data di nascita, è nato il 10 luglio alle 6.30 del mattino e sono anche elencate le malattie familiari per assicurarsi che chi si sarebbe preso cura di lui fosse informato su possibili problemi. Ma Luigi è forte e all'abbraccio di una città intera. Sia in reparto sia a me personalmente sono arrivati un sacco di messaggi di chi voleva prendersi in affido direttamente o in cura a questo bambino. È chiaro che la procedura poi è una procedura che seguirà attraverso gli assistenti sociali e il Tribunale dei Minori per esperire tutta la procedura corretta. Però è bello che ci sia questa solidarietà ed è bello anche lasciare che poi Luigi abbia la vita che le persone esperte per queste valutazioni di percorsi possano fare. Non è facile oggi decidere di mettere al mondo un figlio, lo sappiamo, cioè la natalità in calo in Italia ha raggiunto il minimo storico. Bisogna fare molto di più per incentivare le famiglie ad avere figli, a tornare come i nostri genitori che erano tutti fratelli e sorelle in numero svariato. Purtroppo non è più così, le ragioni sono tantissime, bisognerebbe fare molto di più. Andiamo avanti con la campagna elettorale perché oggi pomeriggio il candidato alla presidenza della Regione Puglia per il centrodestra Raffaele Fitto ha presentato la sua civica, la Puglia domani fitto presidente con il simbolo, un simbolo tipicamente pugliese, il pumo. Anche la scelta dei colori hanno un radicamento sulle tradizioni del nostro territorio. Sarà una lista che guarderà a metà tra tradizione e innovazione della Puglia un cenno anche all'allargamento della coalizione. Noi diciamo no ai trasformismi, ha detto il candidato del centrodestra. Sentiamo. Io ho accettato con grande piacere l'onore di essere indicato in modo unitario come candidato presidente del centrodestra. Sono convinto che oltre alla forza delle forze politiche in campo, dei partiti nazionali, Forza Italia, Feli d'Italia, Lega che hanno voluto con i loro leader dare questa indicazione molto importante, penso che sia altrettanto necessario e importante allargare i confini della nostra coalizione. In che senso? Cosa significa allargare i confini? Significa mettere in campo, come in questo caso, una lista civica che ha l'obiettivo, i candidati che poi nei prossimi giorni comunicheremo, inizieremo a comunicare, compiono questo sforzo. Ci sono i partiti tradizionali del centrodestra, ci sono altre liste politiche. Questa è una lista civica che ha come obiettivo di allargare i confini. Che vuol dire? Vuol dire coinvolgere pezzi importanti della società civile che possano raccontare la loro esperienza professionale, che possano portare le loro competenze insieme anche a chi è impegnato nelle amministrazioni, nella politica. Qualcuno si pone la domanda dell'allargamento cosa vuol dire. Qui voglio essere netto e chiaro. Ci sono due modalità. C'è quello che abbiamo conosciuto in questi anni, che è il trasformismo. Tu vieni con me perché io ti do una prebenda, una nomina, un incarico, che nulla ha a che vedere con quello che vogliamo fare noi, perché viene fatto durante la legislatura. E poi c'è quello che noi proponiamo. Se tu vuoi essere con noi, lo dici adesso, lavori e condividi con noi questo programma e quindi con coerenza sei da questa parte. E quindi se hai avuto anche esperienze diverse in passato, noi siamo ben lieti di allargare i confini della nostra alleanza. È un concetto molto semplice, ma è sostanzialmente la differenza tra chi c'era, trasformismo e chi vuole esserci, coerenza. E restiamo sempre nel centro-destra perché questa mattina ha fatto tappa a Bari il capogruppo alla Camera per Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, per sostenere ovviamente Fitto, candidato alla presidenza della Regione Puglia per il centro-destra. Lollobrigida ha spento un po' le polemiche di mancanza di compattezza nel centro-destra e ha detto, ho sentito personalmente Salvini, mi ha ribadito la compattezza della coalizione. Vediamo. Questa è una campagna elettorale particolare, una campagna elettorale che vedrà la gente ricominciare la vita normale, tornare a lavorare con le tante difficoltà che esistono e ovviamente bisognerà valutare quanto tempo avranno da dedicare alla politica. E Raffaele da capogruppo, da co-coordinatore del gruppo dei conservatori europei, oggi fa una scelta, una scelta d'amore, una scelta d'amore perché scegliere di lasciare un ruolo così autorevole e anche di prospettiva, perché il Partito Conservatorio Europeo rappresenterà l'anima dell'alternativa a questa Europa per dedicarsi alla sua Regione un atto di amore, di coraggio, perché comunque sia, se vinci come vincerai queste elezioni in Puglia, ma diciamo, tutti dicono, siamo in vantaggio, se uno le perde ha un problema serio di natura, di prospettiva. Io ho avuto, il giorno in cui è stata annunciata la candidatura di Raffaele Fitto, ero in televisione con Emiliano e ho avuto modo di vedere, Emiliano che era più bianco del solito dal punto di vista dell'approccio e anche più innervosito, non ne voglio parlare male, cercare di arrampicarsi sugli specchi per dimostrare che Raffaele Fitto veniva calato da Roma, prima sperava che non venisse calato per niente, ma è stato calato dagli elettori, vi ho ricordato, perché Raffaele Fitto ha preso 80.000 preferenze alle elezioni europee con un partito che ha fatto meno del 6% e in questo Raffaele aveva ragione, noi stiamo presentando una coalizione compatta, coesa, una coalizione che mette insieme tutto il centrodestra e anche pezzi di persone che nelle scorse elezioni non hanno votato per il centrodestra, ma lo facciamo prima delle elezioni, perché uno deve dichiarare prima di arrivare al voto che cosa intende fare, con chi intende farlo, come intende farlo e poi sono gli elettori a decidere, è un meccanismo di trasparenza, esatto contrario di quello che vogliono fare a livello nazionale con una legge proporzionale dove si menano durante la campagna elettorale, si insultano durante la campagna elettorale, vengono eletti e poi a livello parlamentare fanno i governi giallorossi, gialloverdi, insomma roba che evidentemente non porta bene alla nostra nazione. E vediamo alla Fiera del Levante, l'84esima edizione quest'anno si terrà non a settembre come da tradizione ma dal 3 all'11 ottobre, questa mattina in conferenza stampa è stato presentato il programma, allora vediamo le novità in questo servizio. Ripartire dall'economia, l'84esima edizione della nuova Fiera del Levante pronta a rinnovare il suo appuntamento annuale dal 3 all'11 ottobre, in moto la macchina organizzativa bloccata fino a pochi giorni fa a causa della chiusura forzata per pandemia, riaprire le porte del quartiere fieristico per la Puglia significa tornare a vivere, così il presidente della nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi che in conferenza stampa ha illustrato le novità della campionaria 2020. Non mancherà il salone dell'innovazione come novità fatto con il Politecnico, con il punto in presedigità delle camere di commercio in cui si parla di economia sostenibile, si parla di intelligenza artificiale, non mancherà il B-Wine, il primo salone dei vini per il momento dei fini di Puglia e poi forse avremo anche novità che stiamo costruendo in questi giorni. Grande attenzione sarà dedicata ai temi dell'economia e alle nuove sfide della Puglia del mezzogiorno, la nuova campionaria come segnale di ripartenza. La giornata odierna noi la dobbiamo dedicare grazie anche alla capacità organizzativa della regione Puglia sotto l'aspetto del contrasto al Covid dal punto di vista epidemiologico, la dobbiamo dedicare all'economia aperta che non si difende più con lockdown ma si difende con la quarantena mirata, con le indagini epidemiologiche e che consente alla Puglia di non rovinarsi. Noi abbiamo già perso dieci punti di PIL. E anche quest'anno a Ceglie del Campo si è svolta la rievocazione storica intitolata Ceglia nel I secolo d.C. organizzata dalla Proloco del IV Municipio al fine di valorizzare il patrimonio e la storia del territorio e far rivivere la vita quotidiana dell'antica Ceglia, e attuale Ceglie del Campo. Questa è la quinta edizione nel corso dell'evento che si è svolto sabato e domenica. Sono state allestite scene di vita dell'epoca animate da figuranti in costume. Singolare è la partecipazione di un rinomato gruppo storico di legionari provenienti dalla capitale e l'esecuzione di musiche e danze dell'antica Roma. E siamo al consueto appuntamento con le nostre notizie dal sito, dunque ci colleghiamo con la postazione social dove c'è per noi Italo Cinquepalmi. Ciao Italo, buonasera. Buonasera Alessandra e allora ricorderete l'incidente stradale di qualche giorno fa in cui hanno perso la vita tre ragazzi di Barletta investiti da un'auto mentre erano a bordo tutti insieme di una bicicletta elettrica sulla statale 170. Ebbene oggi i detenuti del carcere di Trani hanno inviato una lettera alle famiglie dei ragazzi deceduti perché il papà di uno di loro è detenuto proprio nella casa circondariale. Questa mattina scrivono i detenuti non sapevamo ancora che il papà di uno di loro era qui insieme a noi. Questo papà non sapeva che una delle vittime era suo figlio. Purtroppo la tragica notizia non ha tardato a raggiungerlo. Nello stesso istante abbiamo visto quel papà annullarsi psicologicamente e fisicamente. Il dolore e gli strazi del cuore abbiamo immaginato la stessa scena dei genitori e degli altri due ragazzi. Tanti di noi continuano, sono papà e tutti ci sentiamo genitori, papà, mamme, fratelli, sorelli, nonne. Sì perché in tanti siamo anche nonni e questo ci ha portato a stringerci ancora di più a quel papà vicino alle famiglie dei tre ragazzi. Per questo vogliamo dire un appello ai loro coetanei. Ragazzi state attenti perché a quell'età ci sente forti, non si fa attenzione, si è imprudenti ma poi il dolore è grande di fronte a simili tragedie. Per il momento è tutto quindi Alessandra, a te di nuovo la linea. Grazie Italo, noi ci fermiamo. Breve pausa pubblicitaria, restate con noi, tra poco torniamo con altre notizie. Riccoci ancora qui in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla politica per la presentazione a questo pomeriggio della lista civica di Fitto Presidente. Il titolo è La Puglia Domani, è stato scelto il pumo come simbolo della nostra terra insieme a colori particolarmente riconducibili alla nostra tradizione. E allora ha parlato molto di innovazione e tradizione, questo è il progetto che Fitto vuole per la Puglia di domani e allora sentiamo le sue dichiarazioni. Ha parlato di tradizione e innovazione, traslando su di lei questo concetto, cosa resta oppure cosa mantiene del Fitto di ieri e qual è il Fitto innovatore di domani? Io sono molto geloso dal punto di vista tradizionale di quello che è stato fatto. Se ci sono stati degli errori in passato si chiamano esperienza, che è un fatto molto positivo e l'idea di innovarsi guardando al futuro sulla base delle esperienze passate, penso che sia il giusto mix. Mettendo insieme tradizione ed innovazione si può avere una prospettiva seria e credibile che riguarda le persone ma che riguarda anche un progetto politico. Noi oggi stiamo cercando di mettere insieme questo mix per guardare al futuro di questa regione e questo è lo sforzo che stiamo facendo. Io personalmente, come ho detto anche in altre occasioni, avrei potuto guardare ad altro, se avessi guardato più all'angolo visuale personale. Questa scelta è una scelta che viene fatta con un obiettivo ben preciso che è quello di mettere sul campo la propria esperienza per cercare di affrontare dei nodi seri. Lo faremo parlando, come dicevo prima, delle cose da fare, di problemi da risolvere e di che soluzioni dare a questi problemi. Siamo ad un bilancio tracciato dalla CGL sui contagi da Covid-19 nei luoghi di lavoro. Sono 1.246 pugliesi che hanno contratto il coronavirus sui luoghi di lavoro, quasi un terzo del totale e 10 di questi sono morti. Dai dati sulle denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 pervenute all'INAIL in Puglia emerge che nel 73% dei casi si tratta di medici e operatori sanitari. Il 41% è costituito da over 50%. Allora rende noto la CGL Puglia il cui segretario generale Pino Gesmundo in una nota spiega che hanno pesato le iniziali carenze di dispositivi di protezione individuale di una formazione e un sistema di tracciamento inadeguati che abbiamo denunciato sin dall'inizio della pandemia che hanno esposto al contagio i lavoratori che nelle condizioni spesso precarie della nostra sanità hanno sempre garantito un servizio fondamentale durante l'emergenza e con i risultati sul territorio che tutti conosciamo. Adesso, conclude Gesmundo, siamo impegnati in una campagna di formazione e informazione con il patronato Inca CGL affinché i lavoratori sappiano che il loro diritto è denunciare il contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro, accedendo agli indenizzi economici per i periodi di non lavoro e alla valutazione degli eventuali postumi provocati dal virus. E torniamo sull'84esima edizione della fiera del Levante, quest'anno si terrà a ottobre e non tradizionalmente a settembre, dal 3 all'11 la settimana indicata per la fiera che dovrà tener conto ovviamente delle normative anti-Covid. Questa mattina la presentazione con il programma, sentiamo le dichiarazioni del sindaco Antonio De Caro. Una fiera che guarderà al Mediterraneo, quali sono le novità di questa nuova edizione della fiera che chiaramente è stata posticipata rispetto agli altri anni per emergenza Covid? Per noi è importante che ci sia la fiera, fino a qualche giorno fa era impensabile e invece ancora una volta ci sarà la campionaria con i distanziamenti, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con i protocolli sanitari, ma la fiera ci sarà. È importante anche dal punto simbolico la riapertura della fiera in piena fase di ripresa economica perché durante il lockdown è stato facile chiudere, molto più difficile è riaprire. Ancora una volta la fiera presenta delle novità che sono poi le anticipazioni delle fiere specializzate dei prossimi mesi in un legame, in un connubio ormai storico, antico con gli altri paesi del Mediterraneo e spero che questo modello organizzativo della campionaria di Bari possa diventare un esempio anche per gli altri eventi nel resto del nostro paese. Accesso al mare impedito ai disabili accade a Torre Quetta dove questa mattina si è svolta una curiosa protesta di alcune associazioni. Vediamo. Santo Sea Track, torna da noi! Santo Sea Track, vieni da noi! L'addio al Sea Track to be a unico sistema in Italia che consentiva alle persone con disabilità di fare il bagno in autonomia. Associazioni di disabili questa mattina sulla spiaggia di Torre Quetta per esprimere il disappunto sulla impossibilità di usare l'unico ausilio che permette l'ingresso in acqua con la carrozzina inaugurato soltanto l'anno scorso. La spiaggia è di tutti anche delle persone disabili, lo slogan delle associazioni a Cabari 2003, Volare Più in Alto e a Patè che rivendicano il diritto di poter usufruire delle spiagge e del mare. Questi anni siamo così e non facciamo più neanche il bagno, non possiamo più accedere a quello che credo che sia il nostro diritto. Noi avevamo questo sistema unico in Italia che è appunto il Sea Track to be a che comunque consentiva alle persone disabili di poter entrare in acqua liberamente. Purtroppo da quest'anno per situazioni giudiziarie fra di loro, noi disabili ci troviamo a non avere un servizio importante e il rispetto della ordinanza e bagnazione 2020. La prima commissione del Consiglio regionale pugliese ha approvato uno stanziamento di 200 mila euro per il contrasto alla violenza di genere sulle donne. Circa 100 mila serviranno a costituire il fondo di solidarietà per il patrocinio legale e altri 100 mila per incentivare la promozione e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di ascolto. È stata scritta un'altra pagina di Buona Politica, noi saremo sempre dalla parte di chi è vittima di discriminazioni e di soprusi fisici e psichici, ha commentato il consigliere regionale Giuseppe Turco di Senso Civico Nuovo Livo per la Puglia, firmatario dell'emendamento che ha approvato, ha dato il via libera allo stanziamento. Secondo l'ultimo monitoraggio della violenza sulle donne in Puglia, il 72% delle 785 denunce del 2016 risulta presentato da donne economicamente non autosufficienti o quasi. Ultimo collegamento della nostra postazione sociale con Italo Cinquepalmi, Italo vengo da te. Sì Alessandra, ricordiamo che dopo domani si tera la finale dei playoff di Serie C che vedrà appunto il Bari impegnato contro la Reggiana fuori casa. Ebbene si teme un'ondata di tifosi biancorossi e per questo domani ci sarà proprio un vertice in prefettura. ne abbiamo parlato sul nostro sito. Infatti nonostante la partita al MAPEI Stadium sia prevista come tutti gli eventi sportivi a porte chiuse per le normative vigente anti-Covid, la questura di Reggio Emilia sta lavorando a stretto contatto con i colleghi di Bari per prevenire possibili tensioni. L'incontro è infatti molto sentito e si teme che centinaia di tifosi pugliesi possano organizzarsi per un esodo in Emilia. Per questo domani come anticipato ci sarà un vertice in prefettura con il comitato dell'ordine pubblico e della sicurezza presieduto dal prefetto Maria Forte e dal questore Giuseppe Ferrari per fronteggiare al meglio ogni circostanza al Ministero. Saranno comunque richiesti rinforzi per il servizio d'ordine. Noi ricordiamo a questo punto che dopo domani ci sarà su Radio Bari la radiocronaca proprio della partita reggiana a Bari di Cristian Siciliani quindi seguiteci. Per oggi è tutto Alessandra, rate di nuovo alla linea. Grazie Italo, noi siamo in chiusura di questa edizione nel nostro telegiornale ma restate con noi perché tra poco inizierà l'ultima puntata di questa stagione della nostra rubrica col sindaco Chiama De Caro. A tra poco. Il meteo è offerto da Oropan Amici 3B Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà ancora pressione atmosferica abbastanza alta sul Mediterraneo e sull'Italia quindi ci attende una giornata sostanzialmente da piena estate da nord a sud. Controlliamo la nuvolosità prevista sul nostro paese come vedete ampie zone di sereno non ci sono annuvolamenti significativi da nessuna parte e di conseguenza anche come precipitazioni poco nulla da segnalare nelle ore pomeridiane magari qualche breve piovasco può formarsi a ridosso delle zone montuose soprattutto sull'arco alpino ma davvero fenomeni isolati classici acquazioni di calore estivi. Quindi in definitiva ci attendo martedì all'insegno del bel tempo in tutta Italia a parte appunto la possibilità di qualche breve piovasco nel pomeriggio in montagna al nord però attenzione come vedete anche caldo protagonista temperature in aumento al centro nord toccheremo anche i 33 34 gradi all'ombra per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da Oropan. Tu amveragio... E' vera! E' vera! Grazie a tutti.